E ciao ragazzi, beh come state? Spero bene, benvenuti in casa del coach, ancora speriamo per poco. Oggi come visto dal titolo vediamo 10 esercizi per spaccarci e colpire il più possibile l'addome in tutte le sue parti, specialmente quelli obliqui. Ok, quindi tu cosa devi fare prima di iniziare, prima di fare tutto? Fatti un buon riscaldamento, come al solito sia articolare che muscolare, sotto trovi nelle descrizioni tutti i miei link ai tutorial e bla bla bla. Ok, voglio dargli un'occhiata prima di iniziare. Dopodiché, ampio spazio, una bottiglietta d'acqua, il timer l'ho preparato io, facciamo 5 esercizi in modalità tabata, un minuto di recupero e poi facciamo gli altri 5. Quindi preparati e let's go! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!